Musica Telespettatrici e telespettatori di Rossini TV, buongiorno e benvenuti a Casa Rossini, la nostra diretta, il nostro appuntamento in diretta di ogni lunedì, mercoledì e venerdì, ormai da cinque mesi, insomma sono comunque parecchie le puntate nelle quali abbiamo ospitato nel nostro salotto personaggi del nostro territorio e non solo, ne ospiteremo alcuni anche oggi, ma prima andiamo a ricordare i nostri contatti. Per collegarvi in qualche modo con noi avete due possibilità, la mail casarossini, chiocciolarossinitv.it oppure il numero whatsapp 351 708 9977. Cosa ci fate con questi due numeri? Ma ci potete mandare delle domande per esempio per gli ospiti, visto che siamo in diretta, oppure ci potete mandare delle vostre segnalazioni, indicazioni, commenti, saluti e perché no fotografie o anche video. Vi ricordo che stiamo ragionando anche su un concorso video, qualcosa, insomma per cui preparatevi a postare, a pubblicare, a inviarci qualcosa relativo ai vostri territori da cui ci seguite. Potete anche rispondere al sondaggio del giorno, naturalmente è un sondaggio scherzoso che abbiamo comunque introdotto da qualche puntata e ogni volta ci divertiamo a capire tra voi chi opta per una o per l'altra opzione. Per esempio lunedì scorso abbiamo lanciato la domanda tra iPhone e Android e il risultato, perché poi oltre alla diretta naturalmente resta online sui canali social come sondaggio, il risultato finale è stato di 69% Android e 31% iPhone, per cui questo non lo so cosa può voler dire a fini statistici, prendetelo per quello che vale e preparatevi già a rispondere al sondaggio di oggi che è ancora diciamo più leggero se vogliamo ed è vino bianco rosso, allora qualcuno dirà dipende, dipende abbinato a cosa, è vero dipende abbinato a cosa, però diciamo se dovete bere solo un bicchiere di vino, questa è la domanda, siete in un posto dove il momento è quello giusto per bere un bicchiere di vino, quale scegliete? Ecco, questo è quello che noi oggi vi chiediamo e questo è quello che poi riferiremo più tardi come esito provvisorio, perché ricordiamo appunto che durante la puntata diamo un esito provvisorio e poi andremo col definitivo il giorno dopo. Oggi è il 10 marzo, 69esimo giorno del calendario gregoriano, mancano 296 giorni alla fine dell'anno, secondo il nostro librone Personology oggi è il giorno dell'esploratore dell'anima. Non c'è nessuna giornata in particolare di quelle che ogni tanto celebriamo dal punto di vista civile, ma ricordiamo che la Chiesa Cattolica celebra invece San Simplicio, Tivoli, V secolo, Roma, 10 marzo 1483, è stato il 47esimo vescovo di Roma, papa della Chiesa Cattolica, che lo venera come santo. Fu papa dal 3 marzo 468 appunto alla sua morte, una ventina d'anni dopo. L'evento storico che invece abbiamo scelto per oggi è perfettamente in linea con le celebrazioni dantesche. Il 10 marzo del 1302 Dante Alighieri veniva esiliato da Firenze. Lui si trovava a Roma, probabilmente trattenuto astutamente oltre misura da Bonifacio VIII, quando Carlo De Valois, che in quel momento presiedeva Firenze, al primo subuglio cittadino ha preso per testo e ha messo a ferro e fuoco Firenze con un colpo di mano. Il 9 novembre 1301 i conquistatori imposero come podestà Cante e Gabriele dal Gubbio e da lì cominciano un po' tutta una serie di situazioni che portano alla espulsione dei nemici storici. Tra questi con due condanne successive, una del 27 gennaio e una appunto del 10 marzo 1302, il poeta fu condannato in contumacia al rogo e alla distruzione delle case. Da quel momento Dante non rivide più la sua patria. Dal libro del Chiodo, Archivio di Stato di Firenze, vi leggo anche, ecco qui vediamo un'immagine, vi leggo anche la sentenza. Alighieri Dante, tra l'altro bellissimo con il cognome prima come si fa appunto negli atti giudiziari, è condannato per baratteria, frode, falsità, dolo, malizia, inique, pratiche estortive, proventi, illeciti e pederastia. E lo si condanna a 5.000 fiorini di multa, interdizione perpetua dai pubblici uffici, esilio perpetuo in contumacia e se lo si prende a rogo così che muoia. Insomma, gli avevano costruito benissimo tutta la situazione. Abbiamo visto tra l'altro alcune immagini di Dante in esilio, un quadro conservato dai musei civici di Vicenza, insomma poi tutto il resto. Lo sappiamo e in particolare in quest'anno di Dante si parla tantissimo, abbiamo voluto approfittare di questa coincidenza storica. La frase, il pensiero del giorno, un'unica anima a volte può abitare in più corpi, decidete voi che cosa questo possa voglia dire, possa voler dire. E adesso accogliamo e ringraziamo per essere qui con noi il primo ospite, la prima ospite della mattinata, l'assessore Heidi Morotti. Buongiorno Heidi, ciao. Grazie a te, buongiorno, grazie. Ha seguito tutto quanto l'introduzione divertente, insomma Dante, insomma l'avevano cucinato bene. L'avevano incastrato per benino direi. Proprio perfetto. Ci credo poi dopo che insomma non era stato tanto contento e ha reagito come ha reagito. Allora, Heidi Morotti, nata il 2 maggio, e io ho il librone che dice che quelli nati il 2 maggio, il 2 maggio è il giorno dell'osservazione umana. I nati il 2 maggio mostrano un interesse particolare per lo sviluppo umano in ogni sua manifestazione dall'infanzia alla vecchiaia. Non esitano a esprimere le loro idee su una vasta gamma di argomenti sempre concernenti la sfera umana, idee che nascono da una riflessione profonda e che tendono poi a fissarsi indelebilmente nella loro mente. Bello, no? Come descrizione. Poi va avanti, va avanti per due pagine, ma le lasciamo stare. I nati in questo giorno abbiamo James Brown, Caterina II di Russia e Marco Pannella. No, non lo sapevo. Pregi, produttivo, perfezionista, osservatore sono le caratteristiche dei nati in questo giorno. Allora, assessore... Ah, un'altra cosa che volevo dire è questa, lo faccio con quasi tutti, il gioco del nome, figurati se non lo faccio con te. Allora, l'assessore Morotti si chiama Heidi. Heidi è proprio scritto Heidi come quella dei cartoni. Allora, io sono andato a vedere perché ho detto avrà solo un riferimento con il cartone animato. No, è un nome proprio di persona femminile in diverse lingue, tra l'altro, tra cui tedesco, svedese, danese, norvegese, finlandese e inglese. È la forma abbreviata del nome Adelaide, cioè di Adelaide, il nome tedesco Adelaide. Per cui è un nome perfetto, diciamo, no? Come te la sei cavata con questo nome? Eh, diciamo che è stato un nome un po' particolare. Finché sono stata una bambina piccolina, immaginati all'elementari quante canzoncine mi hanno cantato dietro. C'era il cartone, quei pomeriggi, in tv tutti i giorni lo passavano, mi ricordo, su Bim Bum Bam, se ti ricordi. Ed è stata veramente una tortura. Poi crescendo un pochino è migliorato, però quando ero piccola, insomma, un po' di bullismo l'ho sopportato. È vero che crescendo poi mi sono resa conto che era un nome che non avrei barattato con altri, è un nome che mi identifica, che oramai mi sento mio. E a 42 anni posso dire che tutto sommato sono anche contenta, per cui va bene così, però non è stato semplice. E non è solo in teoria che dici non l'avrei barattato, perché mi dicevi prima, i tuoi genitori te l'hanno anche proposto a un certo punto. Esatto, c'è stato un momento in cui ero veramente in crisi, quando ero più piccola, perché veramente mi prendevano in giro i bambini e veramente era diventato un po' pesante. E un giorno, arrabbiata con i miei, gli ho detto, insomma, potevate chiamarmi Francesca come si chiamano tutte? E sì che i miei presi da un atto di bontà e di pietà nei miei confronti mi hanno detto, vabbè, vai alle superiori adesso e quindi cambi un pochino vita, amicizia, eccetera. Se vuoi facciamo le pratiche e cambiamo il nome. Beh, io che l'avevo maledetto questo nome per tanti anni, quando è stato il momento di prendere una decisione, ho detto, no, questo è il nome mio, questa sono io e me lo tengo. E hai fatto bene. E me lo sono tenuto. E hai fatto bene, perché a questo punto possiamo dire che sicuramente in Italia di Aidi Morotti una ce n'è. Esatto, non ho casi di umanemia. Se si parla di Aidi Morotti siete sicuramente. Allora, assessore alla sostenibilità con deleghe importanti, anche in questo caso, ambiente, energia, trasporti, società partecipate, mobilità e ciclabili, borghe e castelli, unione dei comuni, insomma, chi più ne ha più ne metta. Eh sì, abbiamo un carico abbastanza pesante, vario e molto interessante, senz'altro. Tra questi, insomma, c'è anche un riferimento particolare nei borghi e castelli a quello che prima, no, adesso è un borgo e prima era un comune invece, che è quello di Monte Ciccardo. Monte Ciccardo, che adesso è municipio, quindi è un municipio di Pesaro, per cui ci siamo un po' allargati come confini. E la città di Pesaro ha guadagnato questo nuovo territorio bellissimo, affascinante, pieno di prospettive. Mentre parliamo vediamo immagini e video. Esatto, è un territorio assolutamente da scoprire, secondo me, è un territorio pieno di potenzialità e adesso il nostro compito sarà quello proprio di cercare di valorizzarlo, di aiutarlo, di promozionarlo e anche di cercare di mettere un po' di risorse per fare tutto quello che negli anni non si era fatto, negli anni precedenti, perché siamo un po' indietro e abbiamo necessità di investimenti abbastanza forti in questo momento a Monte Ciccardo. Sempre in questa logica di televisione e di servizio e sempre per non dare niente per scontato, vogliamo ricordare bene e chiarire bene. Allora, c'è stato un referendum nel gennaio 2020, questo referendum ha sancito l'unione dei comuni di Pesaro e Monte Ciccardo, per cui Monte Ciccardo adesso è come un quartiere, un municipio. Attenzione, non quartiere ma municipio, è un municipio. Monte Ciccardo ha guadagnato con il referendum il titolo di municipio ed è il primo municipio chiaramente del comune di Pesaro, non è un quartiere perché ha una rappresentatività un po' più ampia. Abbiamo un presidente di municipio che è Claudio Bonazzoli che è stato votato dai cittadini su una lista e quindi adesso il compito di Claudio, di tutti i consiglieri municipali, mio che li sto aiutando, accompagnando e seguendo, è quello di far vedere ai cittadini di Monte Ciccardo che erano anche più scettici, che pensavano di perdere la loro identità, far vedere che non perdono niente ma guadagnano tanto di più. Per chi si magari trovasse in difficoltà a localizzarlo dopo Sant'Angelo in Lizzola, però in realtà per non uscire dal territorio, perché c'è anche un discorso territoriale, la strada non è quella giusta, non si va su per Sant'Angelo in Lizzola perché sennò si esce dal comune. Quella è la più immediata, quella che conoscono tutti. Poi i cittadini di Monte Ciccardo che si spostano da anni su questi territori conoscono una strada più, ogni angolo c'è un sentiero, in ogni angolo c'è una scorciatoia. La prima parte di Monte Ciccardo che troviamo e che è vicinissima, attaccata praticamente a Pesaro, è la frazione di Vilabetti, perché Monte Ciccardo ha un territorio molto esteso, diviso in tante frazioni e pochi cittadini che ci abitano. Quindi abbiamo tanti chilometri di strade e poche persone che le percorrono. La prima frazione che incontriamo proprio è, come dicevo, Vilabetti che confina assolutamente con Santa Maria dell'Arzilla, quindi lì vicino con Pesaro è molto più attaccata. Poi c'è Ginestreto, poi da Ginestreto si sale e si va quella che dicevi tu che è la strada principale che passa anche un attimo per Sant'Angelo e si arriva subito a Monte Ciccardo e poi c'è Monte Gaudio e Monte Santa Maria per ultimo. Sono strade che in questo momento vengono percorse, perché ci siamo resi conto con i consiglieri del municipio, con Claudio Bonazzoli, eccetera, ci siamo accorti che in questo momento il Covid ha portato i cittadini in generale di tutta Italia, ma i pesaresi, perché siamo qui e quindi parliamo di loro, a cercare degli spazi più ampi, perché non puoi uscire, perché non puoi più fare le scampagnate, le gite fuori porta, insomma questo Covid ci ha molto limitato, ma per contro ci ha portato a scoprire questo territorio che adesso è diventato comune, quindi ti ci puoi spostare senza incorrere in sanzione e in multe. Quindi abbiamo il sabato, la domenica, con il tempo bello che c'è stato in questo periodo, abbiamo i nostri sentieri pienissimi di camminatori, camminatori più professionisti, camminatori della domenica che vanno a farsi una passeggiata, i bambini, le famiglie, e quindi è un territorio che si sta facendo scoprire anche per questo. Tra l'altro abbiamo avuto un po' di neve adesso a febbraio, da noi siamo più in alto, siamo più in campagna, da noi due chicchi di neve li fa sempre, e anche quest'anno non ci ha deluso il tempo, e abbiamo avuto un sacco di famiglie che sono venuti con lo slittino, con i bimbi piccolini, a farli scivolare, a farli divertire qualche ora, sulle nostre colline, sui nostri pendii, quindi insomma siamo partiti un po' col piede giusto, e anche i pesaresi ci stanno accogliendo nel modo giusto. Stanno scoprendo. Stanno scoprendo questo territorio. Stavamo guardando queste foto che, hai detto, sono di un autore... Di un autore molto bravo, che tra l'altro è stato molto collaborativo e mi ha fatto questo favore di prepararci queste immagini, che è Pier Roberto Renzi, che ringrazio, anche Bonazzoli, alcune foto sono sue, ringrazio anche lui, sono dei fotografi eccellenti, fanno delle pubblicazioni anche online, spesso di scatti veramente molto belli e molto poetici, e quindi ho pensato... Li seguo, li seguo entrambi attraverso i social, che sono questo territorio nel quale chi sa fotografare bene può far vedere bene che cosa sa fare e anche far conoscere bene i territori. Avrete notato che l'assessore Morotti dice da noi, venite da noi, perché lei abita a Villa Betti. Ebbene, sì, abito a Villa Betti, quindi per me questa è una doppia sfida. Da una parte è stata una sfida costruire questo percorso assieme ai rappresentanti che quella volta erano del Comitato per il Sì, perché ricordo che tutto questo è partito dal fatto che alle precedenti amministrative nessuno si è presentato per fare il sindaco e quindi non c'è stata una lista di nessun colore, di nessuna sponda, di nessun partito, di nessuna lista civica che si è sentito in grado di gestire questo territorio perché eravamo arrivati a un momento, diciamo, un po' critico in cui la precedente gestione, chiamiamola così, aveva preso delle scelte conservative, aveva portato tutto quello che era il Comune a lasciare tutti quelli che erano gli accordi, le funzioni che erano messe in comune con Vallefoglia, è uscito dall'Unione dei Comuni, per cui questo isolamento ci ha portato da una parte grandi svantaggi perché essendo isolati chiaramente non hai più il supporto degli altri comuni e quindi non solo isolati a livello personale e anche di servizi ma in difficoltà a livello economico perché nel momento in cui tu non metti più in comune quelli che sono dei servizi essenziali te ne devi far carico in proprio e di conseguenza un comune così piccolo si è trovato a dover far fronte a un sacco di spese che non era in grado di sostenere e da lì siamo arrivati vicini a un default quindi la situazione era abbastanza difficile e nessuno si è sentito in grado e nessuno aveva neanche voglia forse di arrivare lì ai cittadini e dirgli vi prospetto i prossimi 5 anni di sangue e dolore perché dobbiamo cercare di risistemare un bilancio che soffre in maniera veramente grave e quindi da lì per fortuna c'è questa legge dello Stato che permette le fusioni con i premi anche esatto questa cosa ci ha portato come contributo dallo Stato centrale ci porterà 2 milioni di euro all'anno e quindi sono 20 milioni in 10 anni che il comune di Pesero riceverà e che spenderà in parte su Monte Ciccardo e in parte rimangono su Pesero perché poi anche Pesero ha un carico superiore quindi dovrà sviluppare tutti quelli che sono i suoi servizi e le possibilità che hanno i cittadini di Pesero anche su tutti i cittadini del municipio di Monte Ciccardo quindi penso a un'uniformità dei servizi come fosse la raccolta dei rifiuti l'illuminazione pubblica o i trasporti o tutto quello che gli asili, le mense quindi tutto quello che offriamo nel bene o nel male a Pesero lo dobbiamo offrire nello stesso modo e con la stessa qualità anche a Monte Ciccardo quindi anche Pesero ha un onere impegno e quindi insomma questi danari verranno suddivisi fra Pesero e fra il municipio e dovranno servire a sviluppare il territorio in futuro e vi dà la possibilità questo e qui dico vi nel senso di Monte Ciccardo di recuperare tutto quello che in qualche modo era andato un po' in stand by le particolarità locali, gastronomiche i luoghi interessanti che sono stati chiusi per lungo tempo insomma di ridare diciamo vita nel vero senso della parola a questo posto che viveva un po' in stand by quali sono le prospettive cosa si sta già organizzando allora innanzitutto purtroppo chiaramente il Covid ci ha crocifisso 30 giugno 2020 ci siamo trovati esatto proprio nel pieno della crisi Covid e quindi tante cose che erano state ipotizzate pensate hanno dovuto per forza essere fermate e diciamo che è un punto di forza innanzitutto su quale ci focalizzeremo abbiamo abbastanza in maniera concreta e il conventino di Monte Ciccardo che è veramente un gioiello e nell'estate passata tra l'altro abbiamo fatto anche dei piccoli eventi che chiaramente erano eventi che si poteva contingentare l'entrata erano eventi che potevano essere gestiti anche con il Covid eccolo questo è il conventino che abbiamo tra l'altro ripulito perché abbiamo trovato quando siamo entrati l'abbiamo trovato in uno stato abbastanza di abbandono abbastanza pietoso per cui c'è stato un grosso lavoro che ho seguito l'anno scorso quando per la prima volta abbiamo fatto gli stati generali che sono stati fatti lì e quindi abbiamo ripensato subito al chiostro, alla ripulizia, alla tinteggiatura alla stuccatura perché era pieno di crepe mozzafiato perdite d'acqua esatto le foto saranno anche belle le foto ma il posto è mozzafiato il posto è veramente meraviglioso e sono state fatte quest'estate come dicevo degli eventi c'è stata la mostra Limen c'è stata Lucia Ferrati con palcoscenico delle Marche insomma sono state fatte diverse cose chiaramente compatibilmente con il periodo ma Montecicardo non è solo il conventino che noi vogliamo valorizzare il più possibile Montecicardo è anche una serie di produttori locali che fanno un vino ottimo fanno dei formaggi l'olio insomma ci sono diverse potenzialità e infatti in questo momento stanno aprendo in questi ultimi anni cosa abbastanza diciamo rara e strana per questo periodo storico che viviamo stanno aprendo diversi bed and breakfast ci sono anche c'è un campeggio adesso non voglio fare pubblicità comunque che viene frequentato dagli stranieri ci sono moltissimi olandesi che vengono nei nostri territori tant'è che è facilissimo incontrare nell'alimentare di Villabetti macchine e famiglie di olandesi che vengono ad acquistare il pane per cui insomma chiaramente lì ci sono un sacco di bambini che si chiamano Heidi è ovvio le possibilità ci sono oddio non so se si chiamano Heidi non li ho mai sentiti volendo può essere insomma probabile è più probabile insomma ecco senz'altro sì e quindi di potenzialità ne abbiamo ne abbiamo tantissime e quindi adesso tutto il lavoro che si dovrà fare quindi tutte le ristrutturazioni che abbiamo pensato all'irà del conventino portano proprio nella direzione di far conoscere questo luogo così bello a tutte le persone che magari vengono a fare anche un giro semplicemente in macchina la domenica ecco abbiamo in programma adesso di restaurare la cappella dei caduti che sta a Montecicardo che è da anni che è transennata perché è pericolante sarebbe un peccato perderla eccola la vediamo adesso in foto e poi abbiamo stiamo sistemando in questo momento stanno lavorando alla palestra che è una palestra che era nuova non è stata mai usata perché purtroppo iniziata aveva dei problemi di perdite di acqua eccetera e dopo che siamo usciti dall'unione con i comuni nessuno ci ha più investito ci ha più investito nulla e quindi è stata chiusa e quindi anche la scuola ha perso questa risorsa perché abbiamo una scuola chiaramente come tutti i comuni e i bambini non possono utilizzare questa struttura perché non è ragibile adesso la stiamo sistemando stiamo rimettendo a posto l'impianto elettrico rifacendo l'antincendio bisognerà provvedere a sistemare queste perdite dal tetto ci stiamo lavorando e nel giro di poco pensiamo di riuscire a restituirla ai bambini sperando che tornino a scuola in tempi agili e che possano utilizzarla al posto di quella vecchia che hanno nella loro scuola e abbiamo in programma di sistemare quello che è l'unico centro aggregativo della frazione di Villabetti che è il famoso circolo che non è solo un circolo perché in una frazione così piccola quello diventa l'unico punto aggregativo di forza delle persone che ci abitano si fanno i compleanni stanno ristrutturando la chiesa quindi lì si fa messa la domenica si va a prendere il caffè fanno le tombole la domenica la natale si ritorna a far vita di paese che è quello che poi si privilegia diciamo di chi vive in queste realtà il comune di Pesaro ha diciamo un capitolo a parte dedicato a Montecicardo legato alla fusione oppure comunque sta nella organizzazione generale no 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 abbiamo proprio abbiamo proprio una linea a parte cioè abbiamo Montecicardo e quando facciamo le riunioni con i tecnici per vedere quali sono le ristrutturazioni eccetera il tema della giornata Montecicardo perché c'è un'attenzione per portare avanti nel migliore dei modi questa fusione e credo che questo possa essere ben visto anche da quelli che magari nel referendum immagino fossero contrari che forse stanno cominciando a ricredersi oppure no oppure i contrari sono rimasti contrari allora i contrarissimi chiamiamoli così sono ancora contrarissimi e ogni piccola piccola pecca piccola imprecisione puntano subito il dito e andiamo sui social avete visto cosa fa il comune di Pesaro poi ci sono quelli che erano scettici e i primi segnali che abbiamo dato li stanno un pochino non facendo pentire della scelta che avevano che hanno preso e poi c'erano gli entusiasti che dicono ah caspita per fortuna erano più gli entusiasti e quindi il referendum l'abbiamo vinto e c'è da dire che molti di quelli che erano scettici in realtà poi hanno nonostante tutto votato a favore perché si rendevano conto che eravamo veramente in un imbuto dal quale era difficile uscire per cui però insomma io sono anche contenta quando mi dicono passo per il paese e mi dicono eh assessore la neve l'abbiamo trattata bene perché il ghiaccio non ha impedito perché noi tutti gli anni abbiamo il problema col ghiaccio rimaniamo bloccati ci ingegniamo in tutti i modi ci arrangiamo da soli per forza di cose invece quest'anno è stato messo il sale nel giro di pochissime ore da quando è iniziato a nevicare gli spazi a neve erano sulla strada e quindi abbiamo avuto una gestione molto fluida grazie alle risorse di Pesaro e le competenze che hanno gli uffici di Pesaro e quindi non abbiamo per niente accusato il disagio quindi già mi hanno detto ah però visto quest'anno è andata bene abbiamo già fatto diversi stralci di asfalto nelle strade che erano più pietose e che erano io penso che in vent'anni non ho mai visto che abito lì non ho mai visto un intervento di questo genere quindi già anche quello è un segnale è già e poi adesso niente stiamo lavorando alla palestra come dicevo abbiamo in progetto queste altre cose bene allora adesso invece andiamo a Pesaro nel ruolo di assessore con tutte le deleghe che dicevamo prima anche lì ci sono degli impegni forti c'è parecchia roba io qui ho preso un paio di appunti su questa questa logica del plastic free che in qualche modo tra l'altro arriva anche questa è stata un po' penalizzata dal covid perché ci ha fatto fare un'inversione di tendenza eravamo già sulla bella strada anche con delle leggi nazionali che puntassero a limitare al massimo le confezioni monouso tutte queste cose qua poi arrivati il covid addirittura sono diventate obbligatori in molti casi gli asporti insomma tutto quanto c'era un percorso che già non era facile il covid arriva e ci fa quasi capire che quel percorso è una strada da invertire non è così? no non è così anche perché la plastica è un problema che effettivamente affligge il nostro tempo non solo è brutta quando la troviamo e inquina quando la troviamo sui cigli delle strade o nei parchi ma il problema principale di tutta questa plastica è che in un modo o in un altro la maggior parte di quella che è abbandonata finisce nei fiumi dai fiumi finisce nei mari e ce la ritroviamo in maniera massiccia nel mare e purtroppo da lì si disgrega diventa microplastica i pesci la mangiano quando non la mangiano e quindi torna sulla nostra tavola ci rimangono intrappolati e quindi abbiamo un alto numero di animali marini che rimangono uccisi perché sono intrappolati soffocati dalle buste o bloccati in qualche modo nelle reti di plastica nei cavi nei fili nelle bottiglie insomma le immagini le vediamo tutte tutti i giorni quindi è un problema abbastanza grave che non sarebbe di per sé la plastica il problema è l'uomo è l'uso che l'uomo fa della plastica come sempre e quindi bisogna che ci diamo una regolata perché il tempo ne abbiamo poco se non vogliamo ritrovarci veramente ed io sono impressionato proprio da questo fatto cioè le cose che hai detto adesso sono sicuro che chi è a casa dice le sappiamo non hai detto niente di nuovo tra l'altro ci sono immagini sconvolgenti che arrivano tutti i giorni perché ci sono questi programmi fatti benissimo che parlano della salute del pianeta per cui queste isole enormi che vagano in mezzo agli oceani e le vediamo i pesci che si trasformano anche morfologicamente perché hanno ingerito oppure cambiano eccetera questa novità delle microplastiche che forse è la meno nota e la più pericolosa cioè non è tanto la bottiglia che il pesce se la mangia ma è che poi si frammenta e entra nell'ecosistema proprio a tutti gli effetti marino ma poi diventa parte dell'ecosistema mondiale perché poi ce la mangiamo la portiamo a casa e poi comunque stiamo parlando del mare ma non parliamo solo del mare perché le plastiche si frammentano anche nelle campagne allora sono tutte cose che si sanno sono tutte cose che ci impressionano che ci preoccupano e poi e poi dov'è il punto nel quale pur sapendo tutto questo qualcuno e io mi domando chi perché io non lo faccio tu non lo fai io credo dentro di me qui in studio sicuramente nessuno lo fa non ci viene in mente io non conosco nessuno che dice io la bottiglia la lascio e la butto nel mare allora chi è che continua a rendersi conto di questo e continua a farlo questa è una cosa che a me mi sconcerta proprio mi sconcerta allora tolto il chiamiamolo disgraziato che lo fa apposta e che butta la bottiglia di plastica o l'involucro dal finestrino della macchina che purtroppo qualcuno ancora c'è però tolto questo che è la minoranza a mio avviso il problema principale della plastica che vediamo volare dei sacchetti delle cose deriva da non curanza nel senso che quando butti un sacchetto di plastica dentro il riciclo se non hai chiuso bene il sacchetto il coperchio non è aperto il primo filo di vento quel piccolo pezzettino di sacchetto se ne vola ma se vola un pezzettino per ogni sacchetto per ogni pesarese per ogni italiano per ogni europeo ci troviamo le isole di plastica perché purtroppo è questo anche quando troviamo una cosa che accidentalmente ci cade siamo frettolosi e vabbè non la raccogli una mascherina che ti cade dalla tasca oggi te ne accorgi dopo 200 metri hai fretta non puoi tornare indietro dici vabbè non lo faccio più ma se tutti facciamo così ci ritroviamo montagne di mascherine quindi bisogna raccoglierle c'è poco da fare bisogna che stiamo attenti e che la gente pensi che quello che fai lo paghi domani quindi perdiamo 5 minuti in di più oggi per chiudere bene i sacchetti chiudere bene i bidoni stare attenti a quello che facciamo per non pagarlo poi domani in termini di salute in cosa consiste questo accordo con questa associazione e questo è un po' tutto quello di cui ti sta occupando nell'ambito del plastic free esatto allora l'associazione plastic free è un'associazione riconosciuta a livello nazionale l'avrete vista senz'altro il loro logo con la tartarughina bianca l'avrete visto senz'altro spesso sia in televisione che sui social sono un'associazione molto attiva soprattutto sulla sensibilizzazione anche di quella che è la cittadinanza quindi diciamo che questo accordo adesso di massima che abbiamo no di massima iniziale perché poi ci possono essere degli sviluppi futuri in cui uno prende delle posizioni anche magari un pochino più forti con delle collaborazioni più approfondite però per ora si tratta di fare di organizzare chiaramente covid permettendo di organizzare raccolte con i cittadini lavorano sulla sensibilizzazione sulla didattica quindi anche creare dei momenti di didattica per i bambini per insegnare insomma quello che già stiamo facendo però sicuramente ci sono tante associazioni sul territorio che lo fanno e sicuramente una in più male non fa e anzi ci aiuta questo anche perché proprio in questi giorni finalmente siamo riusciti a firmare quello che è un accordo e questo è abbastanza importante siglato fra il comune fra la regione la Capitaneria di Porta e l'autorità di sistema perché i pescatori durante le loro attività di pesca spesso rinvengono nelle loro reti del materiale plastico e riportandolo a riva dovrebbero pagarne lo smaltimento a spese loro quindi chiaramente non sono incentivati diciamo ad aiutarci invece con questo accordo loro possono riportare a terra tutta la plastica che loro raccolgono in mare durante le loro operazioni di lavoro quotidiane e smaltirle gratuitamente e quindi diciamo che ci forniscono un servizio fanno un servizio fanno un'opera che già la stanno facendo perché i pescatori soprattutto di Pesero e noi non abbiamo una flotta enorme però quelli che ci sono sono molto attenti già lo stanno facendo e sono veramente molto bravi perché oltre al pesce che portano a casa raccolgono cassette e cassette di plastica mi mandano delle fotografie la mattina certe volte e io non posso che ringraziarli perché veramente stanno nonostante tutto lo facevano già da prima adesso lo faranno ancora di più incentivati io spero e quindi insomma tutte queste cose ci stanno portando nella direzione insomma credo giusta perché anche lavorando con più enti non solo il comune perché il problema della plastica non è una plastica non è un problema territoriale è un problema di tutti quindi più enti ci lavorano più enti sono collaborativi e sicuramente più risultati possiamo portare a termine ma è importante che si vada a chiudere ogni occasione di queste specie di cortocircuiti no legali perché se evidentemente era evidentemente una stortura che chi portava arriva delle cose trovate in mare facendo il bene della comunità poi dovesse pagarne lo smaltimento era chiaro non è che ci voleva però è necessario che ci si muova anche a livello amministrativo a livello non solo a livello politico per eliminare queste strutture e benvengano queste iniziative perché penso che servano per sbloccare situazioni grosse insomma perché poi alla fine la flotta di Pesaro non è una grande flotta ma se la cosa si espande vuol dire la flotta di Rimini vuol dire la flotta di Fano vuol dire la flotta di tutte le marche vuol dire che si va a copiare e in quel modo lì si riesce a ottenere un risultato forte reale molto molto grosso ma infatti questi progetti è bene che vengano pubblicizzati perché devono servire a sensibilizzare le altre amministrazioni le altre regioni le altre zone costiere nelle marche questo era già stato fatto a San Benedetto che è una flotta chiaramente importante e quindi diciamo che nelle marche siamo già due i porti le città i comuni che stanno facendo questa cosa mi auguro che tutti gli altri come dicevi adesso possano seguire l'esempio e mi auguro che lo possano fare anche le altre regioni perché è importante dopo c'è da vincere l'altro aspetto per cui il vandalo per intenderci siccome sa che tanto qualcuno riporta a casa si sente più libero di fare i fatti suoi e quello invece bisogna lavorare dall'altra parte lì funzionano le operazioni sui bambini perché noi diciamo sempre i bambini sono il nostro futuro però i bambini sono anche il nostro presente perché i bambini quando sono convinti di una cosa poi diventano dei tali rompiscatole nei confronti e io lo dico che non ce li ho i figli ma lo dico perché mi è capitato nei confronti dei genitori e di tutti quelli che gli stanno intorno da essere i più efficaci promotori di comportamenti virtuosi ma infatti anch'io sono convinta che dobbiamo puntare di più sui bambini perché io penso che i grandi oramai li ho dati per persi nel senso che ormai sono impostati in un certo modo sotto pressione però sotto esatto sotto la spinta del figlio secondo me possono cambiare un po' atteggiamento se non altro per non dispiacere il bambino e per non dargli una rispostaccia ecco io ho due figli e i miei figli da questo punto di vista sono due talebani dei rifiuti per cui sono attentissimi a tutto e devo dire con dispiacere mi è capitato che al mare raccogliessero sulla battigia delle plastichine arrivate con le onde oppure avessero raccolto delle cose che della gente ha buttato e loro quando li hanno visti mia figlia che ha adesso 12 anni gli ha detto ma scusi perché butta la cicca e lui gli ha detto le ha risposto male una brutta rispostaccia una parolaccia si è girato allora una persona adulta che di fronte a un bambino ti dice perché hai buttato la cicca della sigaretta sulla spiaggia ti dice una parolaccia e si gira ecco quello lì è un adulto irrecuperabile che puoi recuperare solo a suon di multe quindi devi avere la fortuna di prenderlo nel momento in cui lo fa e allora gli starebbe un po' bene certo sicuramente sì allora abbiamo parlato di rifiuti parliamo anche di questi boschi urbani questa l'ho scoperta guardando il tuo profilo facebook personale ho visto che hai promosso un po' questa cosa di questi boschi urbani di questa riqualificazione o qualificazione dei boschi urbani che ha a che fare con l'autostrada poi esatto allora i boschi urbani sono un processo che è partito tempo fa anni fa come opera di mitigazione per la terza consiglia dell'autostrada e chiaramente era andato tutto un po' a rilento e quest'anno ci sembrava il caso anche con la commissione ambiente presieduta da Michele Gambini ci sembrava il caso un pochino di pigiare il piede sull'acceleratore e di portare a casa questo risultato volevamo evitare come commissione ambiente di trovarci società autostrade che con tutto il buon cuore per carità ci venisse a piantare filari di pioppi tutti in fila senza un diciamo senza un un senso un pochino più compiuto quindi ci siamo interrogati su quello che era il percorso migliore da fare e abbiamo iniziato questo questo lavoro ecco le aree erano già state individuate quindi non abbiamo cambiato o inventato nulla ma stiamo lavorando perché vogliamo insieme agli agronomi di Aspes stiamo pensando di come sfruttare queste aree nel miglior modo possibile perché sono aree che chiaramente sono urbane la maggior parte e quindi vorremmo che fossero boschi urbani ma anche fruibili da quella che è la cittadinanza che ci vive nei dintorni teniamo anche conto che a seconda dell'esigenza di quel territorio le piante non svolgono tutte lo stesso ruolo e quindi detta in maniera proprio diciamo basilare terra terra non tutte le piante catturano il calore nello stesso modo non tutte le piante agiscono sulle polveri sottili nello stesso modo non tutte le piante possono prendere la CO2 nello stesso modo di conseguenza è necessario studiarle con un po' di ottica di essere attenti e di pensare all'esigenza di quel territorio e dice oh qui servirebbe più un effetto di mitigazione del calore perché magari è un quartiere con molto cemento con poco verde e allora serve questo qua siamo vicini all'autostrada quindi serve catturare le polveri sottili quindi abbiamo bisogno di un determinato tipo di piante quindi ecco questo è il lavoro che stiamo facendo adesso e che speriamo di portare a termine insomma nel giro di poco dovremmo iniziare a breve una progettazione di massima e da lì insomma poi cominciare effettivamente con le piantomazioni quando saremo pronti ecco questa è una cosa che io non avevo mai capito fino a quando qualcuno non me l'ha detta proprio chiara questa cosa dell'autostrada quando è arrivata la famosa terza corsia si parlava dello sviluppo che questa terza corsia portava e io da ignorantissimo dicevo ma qual è lo sviluppo che porta una terza corsia la gente va anche più veloce non si accorge neanche di quello che c'è intorno poi qualcuno non mi ricordo forse il sindaco qualcuno parlando di questo ha spiegato questa cosa che mi piace ribadire e rispiegare a mia volta ai telespettatori che è semplice l'uomo di Colombo cioè l'autostrada per passare fa delle opere compensative cioè porta dei soldi sui territori attraverso i quali passa che sono da impiegare non semplicemente vi do fate quello che vi pare ma sono da impiegare in certe direzioni tra queste però chi è nel territorio ha la possibilità di scegliere la direzione da prendere appunto da una parte metti centomila alberi in fila lungo il lato della strada dall'altra invece fai interventi come quello che hai appena descritto capito bene? esatto è precisamente così sì è una cosa che ci tenevo a dire perché in effetti anche io ero sempre perplesso dico vabbè la terza corsia chi se ne frega passano no la gente passa con la macchina serve poco invece no cioè quando passa l'autostrada lascia qualcosa sì qualcosa lascia perché da una parte lascia un forte impatto ambientale perché chiaramente una corsia in più e tutto il traffico di macchine in più la velocità i polveri sottili e quant'altro dall'altra a livello compensativo ci dà la possibilità di creare tutti questi boschi che chiaramente sono diversi ettari quali sono adesso così indicativamente adesso guarda me ne sono segnati qui alcuni che sono perché abbiamo siccome le aree in totale sono 13 ci siamo dati una scaletta chiaramente non possiamo cominciare 13 tutti insieme e come commissione ambiente ci siamo dati una scaletta i primi dai quali partiremo me li sono segnati perché sennò dopo tutti a memoria non me li ricordo ho portato anche i metri quadri per essere un pochino più precisa la prima area sarà un'area nella zona del galopatoio che sono 21.000 metri quadri poi ce ne sarà un'altra alla torraccia tra il BPA Palace e l'autostrada e sono anche lì 26.000 metri quadrati un'area da quasi 8.000 metri quadri tra via Solferino e via San Martino poi un'area di 7.000 quasi 8.000 metri quadri anche lì dietro Santa Veneranda a Santa Veneranda dietro la chiesa quindi quell'area lì dove l'autostrada ci passa proprio sopra e poi abbiamo due zone in zona Celletta e via del Novecento dove c'è anche l'interquartieri l'autostrada che passa vicino insomma che ha necessità di essere attenzionata e sono un'area da quasi 10.000 metri quadrati e una da più di 3.000 metri quadri insomma quindi queste sono le prime che partiranno insomma sono delle zone abbastanza ampie già così a far la somma span insomma è già una bella superficie sono tanto verde e tanti alberi tanto verde e tanti alberi e speriamo di portare anche un nuovo polmone anche al quartiere dove magari in estate possono anche magari gli anziani rifugiarsi perché è troppo caldo vanno lì a prendere un po' di ombra un po' di fresco insomma deve essere questo l'uso che se ne deve fare non deve essere un bosco fino a se stesso ma deve essere un bosco che può anche essere usato dalla popolazione che ci abita intorno bene allora ne abbiamo dette tante ne abbiamo dette tante anche perché qualche telespettatore si sarà preoccupato con l'orologio diciamo ma com'è che fanno così tardi perché oggi abbiamo due ospiti non tre per cui con i due ospiti ci possiamo allargare un po' di più e ci siamo allargati allungati con l'assessore Aidi Morotti a parlare di tante cose immagino perlomeno per me sono state molto interessanti e mi auguro che sia stato lo stesso per i nostri telespettatori grazie per essere stata con noi io ringrazio per l'invito è stata una bella mattinata spero di aver chiarito qualche piccolo dubbio a qualcuno e vi ringrazio molto bene allora a questo punto ci fermiamo per la pubblicità e per gli esiti del sondaggio che dobbiamo dare perché naturalmente facciamo avendo due ospiti facciamo una sola pausa e abbiamo il 60% che preferisce il vino bianco e il 40% il rosso ma naturalmente ricordiamo che poi il sondaggio va avanti attraverso anche i nostri social ci segue sempre un sacco di gente attraverso i social perché ricordiamo che oltre che in diretta televisiva sul canale 633 la nostra Casa Rossini va anche sulla pagina Facebook e naturalmente anche sul sito in streaming www.rossinitv.it per cui ci seguono un po' dappertutto e tra questi segnaliamo Cristian, Stefania anzi ringraziamo Cristian, Stefania Roberto, Gloria Andrea e Simone che ci seguono e salutano dai social così come ringraziamo come sempre Tiziano Donzelli che ci ha dato la possibilità di allestire il nostro studio con queste ceramiche bellissime l'abbiamo avuto ospite anche qualche giorno fa a questo punto andiamo in pubblicità torneremo subito dopo per cui non andate via mi raccomando perché torneremo subito dopo con Roberto Marinelli presidente dell'Aeroclub di Fano e lì voleremo alto aspetta che siamo in onda eccoci allora siete tutti ancora lì mi raccomando perché adesso abbiamo il secondo ospite della mattinata Roberto Marinelli al quale diamo il benvenuto buongiorno e benvenuto Roberto ciao grazie Paolo allora il microfono tienlo leggermente più vicino va bene così e parliamo con Roberto Marinelli che è il presidente dell'Aeroclub di Fano fresco di nomina presidente di un direttivo composto da cinque soci con lui parleremo di cose secondo me molto interessanti perché parliamo dell'aeroporto ma parliamo dell'aeroclub soprattutto e parliamo di volare perché poi Roberto ha un'esperienza di volo notevole sulla quale comunque un piccolo escursus lo facciamo ma prima anche per te un'occhiatina al librone che cosa è quello? ti preoccupa? questo è questo è il librone si chiama Personology ed è un libro che ha la presunzione di hai fatto bene a chiederlo per così lo riporto e lo ricordo anche ai telespettatori di dare un po' delineare le caratteristiche a seconda del giorno di nascita per cui c'è un commento per ogni giorno tutti nati il 6 aprile tutti nati il 7 l'8 il 9 il 10 allora il 6 aprile è il giorno dello sperimentatore e questa è già una prima indicazione i nati il 6 aprile hanno un estremo bisogno di sperimentare sempre in prima persona tutto ciò che li circonda sotto questo aspetto sono dunque rigorosi penetranti e interessati a tutti i risvolti emotivi fisici e psicologici delle cose dopo va avanti però intanto già con un'introduzione così condividi il giorno di nascita con Fred Bongusto James Watson che è un biologo statunitense premio Nobel per la medicina e Gustave Moreau pittore francese del 1826 innovativo magnetico sognatore sono i pregi insomma con questo bel quadretto adesso possiamo fare la nostra bella chiacchierata va bene ti ritieni soddisfatto di questa piccola descrizione iniziale è un libro tutto sommato è anche difficile poi che condividere con tutti i nati lo stesso giorno però dai qualcosa viene fuori allora come ci siamo conosciuti io e Roberto lo voglio raccontare lo raccontiamo quest'estate noi abbiamo realizzato un evento per una rassegna che era andare per Borghi e Castelli un evento di lettura era un reading siccome io sono appassionato al tema del volo da lettore perché ho letto tanti libri di Antoine de Saint-Exupéry di Richard Bach Daniele del Giudice altri libri legati al volo ho creato questa scaletta che era composta tutta da pezzi e mi è venuto in mente di invitare di andare a invitare l'aeroclub perché ho detto loro devono venire poi non è andata benissimo perché quel giorno avevate un volo da fare avevate un'attività avevamo un ospite importante che dovevamo portare in volo in formazione un generale dell'aeronautica militare che è stato mio allievo vent'anni fa anzi venticinque anni fa sul tornado io ero istruttore lui è venuto su in Inghilterra a fare il corso sul tornado ed è stato un mio allievo e quindi ci siamo rincontrati venticinque anni dopo lui quel giorno lì era quel giorno lì chiaramente in agosto e quel giorno aveva dopo c'era il tentativo c'è stato il tentativo però non ci siamo riusciti ma abbiamo aperto una conoscenza perché poi ci siamo ritrovati ci siamo riparlati e alla fine ho pensato che fosse bello condividere con i nostri telespettatori questa conoscenza e questo approfondimento e naturalmente tu adesso presidi quest'aeroclub che è un'associazione sportiva per la diffusione del volo dedicata a chi a chi vola con gli aerei da di porto vediamo già dei filmati qua però hai una storia importante istituto tecnico aeronautico di Forlì accademia aeronautica io mi sono preso solo i titolini F-104 e tornato già dicono tutto dal 97 poi pilota civile con l'Auda e Livingston e poi la Tarkish Airline lungo raggio con i Boeing fino a Airbus con l'Airbus con Nicky Lauda Boeing e poi Airbus esatto mi sbaglio perché poi non mi intendo tra l'altro per me uno vale l'altro in realtà non è così immagino immagino che sia per cui diciamo che insomma il percorso è un percorso importante che poi adesso ti riporta accompagnare i tuoi allievi alle origini perché poi in realtà tu parti da Marotta da Marotta e venendo a volare a Fano certo quindi 17 anni mio padre mi accompagnava in macchina perché non potevo guidare la macchina però dato che si può prendere il brevetto a 17 anni potevo pilotare un aereo da solo dove andarmene in giro ma non potevo guidare la macchina quindi mi serviva il supporto di mio papà questa è una delle curiosità che permane tra l'altro cioè ancora oggi si può prendere il brevetto infatti abbiamo un allievo che appena ha fatto il decollo il mese scorso un giovane di 17 anni che fa il liceo a Fano è stato bravissimo perché ovviamente fresco di testa e di passione non gli puoi neanche dire come guidare la macchina perché lui la macchina non la guida molto più complicata appunto infatti viene sempre con la mamma che viene accompagnato e poi lui va a fare il giro infatti l'ho filmato nel soggiorno di volo da solo la mamma tutta entusiasta lui e ti ci rivedi 17 anni abbastanza accompagnato appunto dal babbo è sceso con le lacrime agli occhi anche lui anche lui è sceso con le lacrime agli occhi ci credo ci credo ci credo è un'esperienza unica tra l'altro è un'esperienza rara che noi possiamo cominciare a entrare un po' nel motivo per cui facciamo questa chiacchierata che noi possiamo vantarci di avere a portata di mano perché c'è chi l'ha sentito lo sa lo conosce ha visto le indicazioni però l'idea che a Fano cioè noi adesso in questo momento siamo a Pesaro ma insomma il territorio è questo per cui nel nostro territorio ci sia un aeroporto in grado di dare innanzitutto ospitalità a chi arriva si ferma e poi può ripartire per cui è un aviosuperficie a tutti gli effetti utilizzabile anche per dei trasferimenti per dei tour è un aeroporto funziona un aeroporto una superficie è un'altra cosa ok è un aeroporto è un aeroporto tutti gli effetti ha una sigla ICAO parli ma in India Delta Fox si chiama L-I-D-F ed è proprio un aeroporto gestito dall'ENA che è l'autority dell'aviazione civile per cui già questo fa del territorio un territorio più ricco di tanti altri che l'aeroporto non ce l'hanno e questo tanto per cominciare c'è una storia che se guardate quel filmato che ho fatto fare a Del Bianco l'anno scorso c'è storia di un aeroporto lo trovate su Youtube e c'è la storia di Fano dalle origini che ha origini prima della guerra si si nel 1913 diventa un aeroporto poi dopo diventa l'aeroporto militare è un campo poi dopo certo viene identificato come utile appunto per operazioni di guerra e poi dopo a quel punto visto che lo è stato durante la guerra qualcuno giustamente decide di mantenerlo insomma no la cosa principale è che c'è un aeroclub esatto un aeroporto da solo non sarebbe una recinzione con una pista esatto però se non c'è qualcuno che lo anima e che lo valorizza e questo è l'aeroclub e il suo scopo è questo di divulgare il volo e far nascere quella passione a chi ha solo magari una curiosità esatto e poi trova invece un mondo che è infatti è infatti è questo che vogliamo far capire cioè c'è questa possibilità reale concreta a pochi chilometri di distanza da casa di chiunque perché anche se uno abitasse un po' nell'entroterra di avvicinarsi approcciarsi all'idea del volo che in questo periodo diciamo storico diventa ancora più alla portata grazie a questa invenzione degli ultraleggeri esatto che hanno reso il volo ancora più alla portata di tutti perché in pratica è un hobby che può diventare facilmente conseguibile e anche di poca spesa se vogliamo mentre invece prima era quasi considerato un'elite vado a volare costa 300-400 euro ogni ora di volo invece adesso con gli ultraleggeri questi prezi si sono più che dimezzati quindi con 120 euro all'ora si noleggia un aereo a tutti gli effetti si può andare ovunque sia in Italia che all'estero con le dovute attestati licenze che si possono conseguire e quindi si va in giro a fare turismo itinerante noi ci siamo inventati la rally dei ristoranti l'anno scorso per portare i soci in quegli aeroporti che sono sede anche di un ristorante come Fano che ha il Barone Rosso che si mangia benissimo un ottimo nome per i ristoranti e quindi anche altri aeroporti hanno il loro piccolo ristorante e quindi con l'occasione di andare a mangiare in un posto diverso dal nostro si portano i soci a navigare a pianificare a parlare con la radio con gli enti del controllo e quindi questo suscita anche una certa curiosità di fare sempre di più e di andare veramente a spasso con l'aereo si atterra si mangia cioè si modifica la dimensione cioè dal giretto uno prende parte fa un giro e poi torna al percorso cioè si prende si va in un posto poi da lì si va in un altro poi da lì si va in un altro per cui si fa un vero e proprio tour si utilizza l'aereo come è vero è proprio un mezzo di trasporto cosa che per molti è ma per molti ancora può essere semplicemente un mezzo da diporto cioè non ha niente da invidiare con gli altri mezzi perché sono strumentati alla stessa maniera hanno sistemi di navigazione precisi come gli altri solo che si chiama ultra leggero perché è sotto i 450 kg per cui l'unica differenza diciamo in questo momento è chiaro che distinto chi si intende poco me compreso viene da pensare l'ultraleggero il deltaplano motore insomma quelle cose un po' precarie anche quello fa parte di un ultra leggero rientrano tutte nella categoria però all'estremo massimo della categoria ci sono dei veri e propri aerei che hanno tutte le caratteristiche dato che è un aeroporto all'interno di un'area controllata aeronauticamente parlando sono volare solo ultra leggeri di tipo avanzato cioè hanno il trasponder quindi un apparecchio un apparato a bordo che permette ai radar di identificarci c'è una radio particolare che è in grado di parlare con gli enti del traffico e deve avere il paracadute balistico non c'è più il paracadute per il pilota ma il paracadute ce l'ha l'aereo quindi qualsiasi cosa succeda di grave uno tira la maniglia e esce fuori un paracadute e viene giù con tutto l'aereo diciamo che non è che si salva tanto l'aereo però salvi la pelle certo è un po' come la casa antisismica non è che serve per mantenere la casa intatta però il santo salvi la pelle certo questo non lo sapevo come si chiama paracadute? balistico balistico e tutti gli ultraleggeri di quella classe lì sono obbligatori altrimenti non possono accedere a certe aree a certe zone è un mondo affascinante tra l'altro il mondo del volo in generale affascina da sempre l'uomo ama volare almeno in teoria poi nella pratica però mettersi lì e cominciare a avere a che fare con non so se ci sono ancora i manettini le cloche e quello che ci deve essere appare così sempre nell'immaginario come una cosa molto complicata invece tu ci stai raccontando che a 17 anni addirittura a 16 si può cominciare a 16 si può cominciare per prendere la velocità a 17 ma anche adesso la butto lì e poi dopo vediamo dove mi porta questa domanda ma anche alla mia età anche a 60 e rotti si può cominciare facilitiamo le cose non mettiamo neanche le marce addirittura la presa diretta come lo scooter come il motorino in effetti tutti gli aerei sono a presa diretta in mano le marce quindi si dà manetta si dà gas si toglie la manetta ok ok è vero giustamente se tiri la cloche le case diventano piccole se dai la cloche in avanti le case diventano grandi diventano grandi e devi cercare di come approccio non mi dispiace come approccio non mi dispiace adesso vediamo dove arriviamo con questo discorso e con un corso che ha una durata comunque accettabile il corso dipende dalla disponibilità dell'allievo e degli istruttori perché in effetti si tratta di 33 ore di lezioni teoriche che si possono fare contemporaneamente alle lezioni pratiche di volo e sono 16 ore di volo questo è il minimo da statuto diciamo da regolamento per poter fare l'esame di attestato VDS cioè per l'ultraleggero certo se poi qualcuno ne occorre qualcuna di più si fanno come scuola guida se serve minimo quello e in genere si riesce a rientrare in questi numeri quindi se la disponibilità c'è che ne so uno, due, tre volte alla settimana anche due volte alla settimana in 4-5 mesi fai tutto e le materie della teoria cosa sono? beh sono quelle specifiche per volare quindi la meteorologia perché con la meteorologia che non aiuta non si va in volo certo l'aerodinamica aerotecnica perché senza conoscere quella non si sa come quali leggi non si sa perché si sta volando e non è bello esatto io per tanto tempo non lo ho saputo adesso lo so le regole del volo chi viene da destra chi viene da sinistra chi è la precedenza chi è più alto chi è più basso come si fanno i circuiti le chiamate da fare come si parla agli enti del controllo quindi sono tutte cose molto interessanti facili niente di complicato che però stimolano quella curiosità di poter fare qualcosa che uno pensa che sia mamma mia dice un volo va di un volo invece no è così semplice una macchina che risponde alle leggi di Leonardo che ha scoperto parecchio tempo fa esatto parecchio tempo fa e a proposito di come si parla si parla in italiano oppure si parla in italiano se si sta in Italia se si vuole andare all'estero bisogna fare un corso di fonien inglese si chiama noi andiamo a volte prima del covid in Croazia o in Francia o in Inghilterra e quindi la fonia standard mondiale è in inglese bisogna fare un corso e si riesce a parlare con tutti certo e adesso io ti faccio una domanda personale che mi incuriosisce sempre io ricordo di avere tra i tanti libri che ho letto di aver letto anche un libro di Richard Bach che si intitolava Straniero alla Terra in Straniero alla Terra si racconta di una missione su un monomotore e di tutto quello che il protagonista pensa e su cui riflette mentre sta volando nei cieli della Francia per andare a portare un plico tra l'altro niente di particolare non è una missione di guerra però sta andando con un aereo da guerra comunque sostanzialmente a portare questo plico e poi ritorna e il titolo Straniero alla Terra fa riferimento al momento in cui lui ritorna cioè dopo aver fatto tutto questo ragionamento e tutto questo volo e tutta questa cosa in volo con una serie di riflessioni che ovviamente non è il momento di raccontarvi ma vi invito ad andare a leggere questo libro poi arriva si ferma spegne fa ridere ma l'aereo si spegne c'è una specie di chiavetta lo so cosa c'è e lui scende l'aereo non è più un aereo in quel momento ma torna a essere una macchina ferma e lui mette i piedi per terra e in quel momento la riflessione è ci si sente un po' stranieri alla terra dopo che si è fatto quello ti è capitato di avere questa sensazione io sentivo ogni volta ogni volta forse quasi tutti hanno volato con le arie civili per andare in vacanza o spostarsi per lavoro però con questi aeroplanini si apprezza veramente il fatto di lasciare la terra e vedere il mondo con un occhio diverso che è un punto di vista totalmente diverso con queste ampie fenestrature queste cabine di pilotaggio molto ampie si veramente si apprezza la bellezza di essere di non appartenere solo al suolo appartenere a un insieme io poi sono appassionato di astronautica per cui volevo fare l'astronauta la piccola e quindi ancora più lontano sento che noi apparteniamo all'universo non alla terra certo il fatto di volare per me è una cosa che mi porta veramente in contatto con tutto il resto poi quando torni per terra cominci a vedere le facce delle cose sbagliate che facciamo noi umani il mancato rispetto della natura queste cose qui prendi la macchina c'è quello che non ti dà la precedenza tante cose esatto però ecco è come un po' andare per mare e questa sensazione è la stessa sia con gli ultraleggeri che anche quando volavi con il tornado e con gli F-104 o lì è ancora più potente il distacco beh lì si restringe il tempo nel senso che adesso per andare in volo con questi aeroplanini c'è una procedura c'è un iter una dottrina che va seguita si vola piano a 100 all'ora a 150 all'ora 200 all'ora e quindi la terra scorre anche piano se al tempo anche di guardare fuori in macchine un pochino più performanti come un modo di fare di dare questo c'è un pochino meno tutto avviene velocemente è vero che secondo la teoria di Einstein il tempo si allunga quindi ho fatto i conti che io nella mia carriera di 45 anni ho guadagnato circa 6-7 secondi di vita rispetto a tutti gli altri perché sono andato più veloce certo e poi più in alto per cui sono due cose c'è la velocità ma c'è anche la distanza dal suolo della il volo militare che è con un caccia ci voglio andare lì punti il musoli dai gas e ci vai ci vai con questi ci voglio andare lì vediamo intanto se ci arrivo piano 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 certo è come guindare in montagna a due cavalli esatto la famosa due cavalli della Citroen invece andarci su con una con una lancia HF da fuoristrada e anche le motivazioni sono molto diverse perché con un caccia militare te non è che vuoi andare lì devi andare lì perché c'è una missione e invece volando con l'aeroplanino magari anche solo in tondo sopra l'aeroporto di Fano e arrivando sulla fiazza si apprezzano tante cose ma l'importante non è tanto la velocità o l'altezza l'importante è staccarsi da terra certo è quello il salto certo difatti paradossalmente nel volo la cosa più semplice da fare è il decorno la cosa più difficile da fare è l'atterraggio esatto quindi è facilissimo staccarsi ma è difficile trattarci certo vedi il distacco è più semplice del ritorno questo c'è un chedi metaforico molto il primo volo è quello che farai con noi perché lo farai lo farò vedrai che tu potrai decollare da solo già dal primo e poi tornare giù invece l'atterraggio che invece è sicuramente una cosa più più complicata io spero di riuscire in questa trasmissione di stare riuscendo in questa trasmissione a farvi arrivare tutta la passione che c'è nel comandante Marinelli comandante giusto? vabbè in Roberto e che nasce in me io da lettore per esempio staccando l'ombra da terra è un altro titolo potentissimo di un libro straordinario di Daniele del Giudice e che dà proprio l'idea di quello che hai appena detto cioè questo fatto che a un certo punto tic ci si stacca e in quel momento che è il momento magico poi non si appartiene più a tutto quello che ha a che fare appunto con gli incroci si cambia dimensione e con i ponti si cambia dimensione ma poi ci si torna insomma quello lì è il punto il punto chiave tutto questo ci tengo a risottolinearlo ancora una volta alla portata perché c'è appunto questa tecnologia degli ultraleggeri che dà la possibilità di affrontare con dei costi accettabili una macchina volante vera e questi corsi che vengono fatti anche a richiesta nel senso che non è che c'è ad personam ad personam esatto per cui non è che c'è dice parte il corso mercoledì per cui se te vorrei precisare che in pratica gli istruttori sono istruttori di esperienza non sono gli istruttori giovani appena fatti sono ex militari come me sono gente piloti di Alitalia piloti di altre compagnie quindi gli istruttori sono a un livello altissimo a Fano i costi sono veramente prima non ne ho parlato ma ne voglio parlare sì 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 dobbiamo arrivarci io prima volevo ingolosire tutti adesso è ora di parlare dei costi adesso attualmente costa 3.500 euro 3.500 euro sono comprese le lezioni a terra le lezioni in volo l'esame e poi questi 7-8 mesi in cui uno ha una visione un approccio una disciplina di volo che specialmente in un giovane può essere un grande investimento io lo dico sempre per noi i grandi diventa un hobby diventa una curiosità può diventare una passione e la coltiviamo fin tanto che possiamo in un giovane avvicinarsi al mondo della scuola WDS quindi per intenderci prendere l'attestato di ultraleggero si impara a una disciplina mentale un approccio mentale in cui c'è uno studio un rigore che anche per macchine semplici va comunque adottato e che insegna ad affrontare la vita in futuro anche se non for a fare il pilota comunque sia con una certa attitudine mentale che lo porterà poi a fare ad affrontare nella giusta maniera qualsiasi cosa un pochino più difficile delle cose banali a parte che di banale non c'è niente se uno vuole fare bene anche il lavoro più semplice si deve impegnare altrimenti viene male anche il lavoro semplice questa disciplina che noi insegniamo e che si impara perché il volo va affrontato seriamente ha un grande valore secondo me come investimento per i giovani il volo ha questa valenza forte e intuibile da tutti appunto di importanza della programmazione dell'aver definito bene le procedure del seguire è molto chiaro se è in alto se sbagli qualcosa caschi se non altro con questo monito che poi non è così rigoroso ma in realtà è bene invece che arrivi in questi termini capisce qual è l'approccio con quell'approccio poi oltre a imparare a volare che poi tra l'altro è anche il primo passo per fare altro nel senso nell'ambito del volo il nostro scopo con la scuola WDS che abbiamo è di sollecitare quella curiosità in un giovane che poi magari diventa una passione e quindi poi decide di fare il pilota e quindi poi comincia un iter tutto in particolare ma si comincia così certo e allo stesso tempo la parte bella è che questa mentalità che si forma nel seguire il percorso del corso è una mentalità che non va sprecata perché è una mentalità vincente applicata in qualunque altro settore della vita come dico sempre a chi si avvicina al nostro mondo noi abbiamo questa scuola WDS che si chiama con gli ultraleggeri se tu vieni per curiosità sei giovane ti piace perché vedi magari qualche film o qualche fumetto non so se si usano più i fumetti ma comunque sia mi piacerebbe volare bene vieni fai questo corso e capisci se è una cosa che ti appartiene se veramente può diventare una passione e quindi poi di lì cominciare a fare tutto quello che serve per arrivare come ho fatto io o da militare o da civile a farlo in maniera professionale se tu vai a rischiare magari di investire 10-15 mila euro per vedere se ti piace è un po' troppo esatto invece tu investi questi 3.500 euro certo e dici beh in effetti ho le caratteri mi piace e ho anche le capacità per farlo perché magari a me piace molto fare fotografia o disegnare però non sono capace sì 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 è chiaro non sono portato chiaro chiaro giustissimo tra l'altro voglio ricordare anche una cosa che un primissimo passo può essere quello di proporsi come passeggero perché i passeggeri con priorità data ai soci dell'aeroclub naturalmente ma anche eventualmente esterni hanno questa cosa divertente pagano il pranzo come era sì sì è un modo di dire però il pilota paga il volo e il passeggero paga il pranzo chi si segna il volo sul libretto deve pilotare altrimenti non può segnarsi il volo esatto chi invece sta dietro oppure di fianco e non può segnarsi il volo paga il pranzo al pilota esatto e se non altro scopre se c'ha paura o no perché poi comunque non dimentichiamoci che un po' la paura di volare va alla pari con la passione è meglio che ci si ci vuole un po' vero? sì sì quello che ti tiene in vita esatto perché non è la macchina che se si ferma il motore accosti sulla questione di emergenza esatto è un motore è un mezzo meccanico ma io ogni tanto ne parlo e qualcuno mi dice sì perché io cerco di spiegare dico anche dalle cose che ho letto perché questo entusiasmo è una cosa che mi piacerebbe anche perché ho letto questa cosa intelligente scritta da Bach che diceva cioè il volo è più libero perché sull'asfalto te puoi andare solo a destra o a sinistra se uno ti si mette davanti te c'è un problema o gli vedo nel volo almeno c'è anche il soprassotto cioè comunque hai quattro hai quattro possibilità invece che due allora io mentre parlo così sono i miei amici che mi guardano e poi mi fanno sì sì ma se si ferma vieni giù e ho capito però insomma perché si deve fermare diciamo che si plana non è che si vieni giù esatto mica cadere a piombo insomma dai qualche modo infatti sono anche le tecniche per imparare a risolvere i problemi poi io dico sempre ma te figurati se io nella mia lunga vita con tutto quello alla fine devo finire la mia vita cascando all'aeroplano Fano non è possibile non lo prevedo esatto non lo vedo non lo vedo allora Roberto avevi timore che la chiacchierata non riuscisse a svilupparsi invece abbiamo già praticamente finito il tempo e ci resta la possibilità di dire appunto di ribadire questa cosa dei corsi a cui io tengo particolarmente perché appunto una volta che abbiamo ribadito tutto ecco guarda la regia puntualissima sta facendo passare il cartello questi sono i riferimenti segnateveli e eventualmente anche contattateci direttamente contattate Rossini TV perché perché la cosa la tentazione è forte e in conclusione niente arrivo a questo la tentazione è forte cioè io già devi venire per sperimentare con mano tra l'altro noi siamo anche un nucleo di protezione civile esatto tra l'altro organizziamo gli eventi che quest'anno e l'anno scorso non abbiamo potuto per i noti motivi però ecco un'altra cosa che da dire è che su non c'è il covid esatto siamo covid free una volta che ti stacchi da terra il covid rimane giù in mezzo all'ergo è vero questo è un altro punto quindi noi siamo su liberi da questa cosa insomma guarda adesso sai cosa facciamo parliamo con la direzione di Rossini TV se Rossini TV concorda nell'idea di mettere in piedi una trasmissione gioca una specie di reality giocato sul fatto che io imparo a volare facciamo il botto se poi diventa una sopopera tanto meglio così duri parecchio ti dici che mi ci vuole più tempo degli altri no dai assolutamente diventa bello dopo quando sarà ora abbiamo gente di oltre 70 anni che vuole tranquillamente appena il tempo torna buono appena riusciamo a parlare con Emanuela Rossi e appena riusciamo a definire un po' i dettagli ti aspettiamo sicuramente esatto però intanto un voletto da passeggero con l'impegno a pagare il pranzo bisogna che vengano quando vuoi niente perché siamo rossi da oggi eh già siamo rossi voi come siete siete sottoposti anche voi alle reali sì solo l'attività alcune attività si possono fare perché chi non ha la possibilità di mantenersi in addestramento nel comune dove abita potrebbe anche di dipendere dall'interpretazione che si dà venire per mantenere questa sua abilità al volo eccetera ma è tutto da definire lo devo vedere un pochino meglio difficile definirlo beh noi ci aspichiamo come tutti che la cosa si sviluppi velocemente e si risolva velocemente perché devo dire che non ne possiamo veramente più si accetta perché si deve ed è giusto l'obiettivo è nobile perché l'obiettivo è quello di liberarci del covid facciamo tutto il possibile e tutto quello che ci dicono di fare però non vediamo l'ora insomma dobbiamo volare ma non dobbiamo volare troppo in alto esatto stiamo esatto fai vivi esatto vogliamo nei posti giusti ci siamo detti tutto quello che più o meno avevamo proposto di dire sì più o meno l'abbiamo mescolate però insomma ci siamo arrivati se volete approfondire la conoscenza di Roberto Marinelli andate a cercare su youtube trovate delle cose molto molto ben fatte molto interessanti sia su di lui che sull'aeroporto di Fano sul portale di Aero Club Fano su facebook esatto ogni tanto mettiamo qualche filmato delle nostre scorribande estere italiane c'è anche lo voglio dire c'è anche uno speciale molto molto ben fatto da parte dello studio del Bianco dello studio video del Bianco quello riguarda me riguarda personalmente però chi lo volesse conoscere meglio trova qualcosa di molto interessante devo dire che venite in Aero Club lì che andiamo in Aero Club allora va benissimo allora niente il tempo è scaduto grazie e a questo punto organizziamoci per promuovere questa realtà importante questa attività importante e per portare tanti giovani e non solo giovani a provare l'ebbrezza del volo grazie mille ringraziamo Roberto è stato con noi oltre lui Aidi Morotti si conclude anche la puntata di oggi l'appuntamento con la prossima edizione di Casa Rossini in diretta è per venerdì naturalmente questa puntata è come sempre in replica agli orari consueti nei limiti della programmazione alternativa e in diretta di Rossini TV restate sempre con noi grazie a tutti ci vediamo venerdì fermati pure grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti